Mannaggia! Da quanto stavi aspettando? Eh, da stamattina! Sono andata fuori e l'ho presa attaccata la porta. Ma guarda che bello sto gestito! Ma una domanda? Sai cos'è questo? Quello lì è il telefonino. Sai come funziona? Eh sì, ti chiamavo, magari tu stavi lavorando e mi piaci sempre. Mamma mia, quanto mi faceva male! Grazie, grazie, grazie. Barca miseria, era ora. Mannaggia, sai quanto mi faceva male? Eh, lo so. Ma sai come si dice? Non c'è rosa senza spina. Oh, ma stamattina mi sembra che le spine ce ne ho, però poi niente. Ma che cos'era questo verso? Ma guarda che bel cestino! Ma che pazienza e quanti tovaglioli ha usato! Ringraziamola, ringraziamola. Ma io devo ringraziare tanta gente, tutti i giorni dovrei ringraziare, tante, tante persone dovrei ringraziare. Ringrazio tutti con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza. Grazie, grazie, grazie. Tante persone che mi vogliono bene, veramente. Ma anch'io voglio bene alle persone. Auguro sempre tanto bene a tutti, a tutti, grandi e piccini. Vi voglio bene, veramente. Oggi non c'è tanto bel sole, però io ve le auguro tutto il giorno un sole grande, 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 grande.